e salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale oggi ragazzi faremo le skywars sempre perchè noi facciamo sempre le skywars però alla fine del video vi farò vedere una piccola cosetta che è una piccola sorpresa che a me mi piace molto comunque signori siamo in questa bella partita che è molto bella e intensa voglio fare un pro build non lo so se lo faccio il pro build vabbè sappiamo questa armatura mamma mia cioè partiamo già con questa bella armatura ma perfetto datemi solo una spadini in ferro va benissimo raga ma forse finalmente mi danno della roba buona non mi danno più cacca di cavallo allora facciamo il faster build stavo cadendo malissimo con il faster build ma noi non ci la voglio in subito che vuole venire quello no io so che vuole venire quello no eccolo mamma mia raga schizzo come come non so chi molto cuore ma viene pure quello spero aspetta mamma mia raga so che non si capirà niente c'è pure quello là che vuole venire ok è morto adesso è la fine che ho fatto il tuo amichetto vabbè signori io non lo penso proprio a quello perché a me in realtà non me ne frega di quello quando vuole venire viene io ho tanto un arco quindi poi lo prenderò con l'arco e muore chi ha buttato? ora che non ci butta la roba tua madre te l'ha insegnata l'educazione mal educato guardalo all'arco mannaccia ma quanto mi fanno incazzare queste persone che camperano vi giuro raga vai dammi la macchina di sole sì raga ovviamente perché io devo morire a quanto l'ho lasciato? l'ho lasciato ben a otto cuori e mezzo sapete perché? perché lui io ho dato che non avevo golden lui mi viene io non ho le golden vabbè raga adesso è overpower quindi cerchiamola di vingere perché sono molto difficili le overpower quindi ci dobbiamo impegnare molto in questa partita se ci danno una bella armatura qua eh sì 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 ci hanno dato una bella armatura sì perfetto signori che bella armatura che ci hanno dato vabbè signori questa partita non mi piaceva quindi l'ho fatta apposta in realtà a fare il ponte sbagliato secondo voi ci crederà qualcuno comunque signori vi devo dire una cosa ho cambiato se vedete che nei miei video in basso giù c'è l'iconcina di minecraft il mio video e perché ce l'ho messa io e poi se entrate nel mio canale e vabbè sì ma perché devo parlare quando sto facendo i fonti vedrete la grafica del mio canale quindi quando vi uscirà il mio canale che è cambiata perché c'è Mario c'è una delle tante drapes e non ti c'è il mio nome di di ok ok mannaggia mia sì vabbè sì 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 mi fa benissimo questo che mi vanno a colpire da dietro mi piace ma io l'adoro mi sto veramente nervosendo raga sapete ma tanto e sapete cosa ecco fatto ok perfetto ok raga io vi giuro che mi sto nervosendo quindi adesso fate i chiari amicizia lunga non mi fate incazzare più perché sennò io mannaggia ma non raga adesso se non parlo faccio bene perché io mi deconcentro quando non mi deconcentro quando parlo quindi adesso non parlerò più e se vedete che non parlo più è perché mi devo concentrare che voglio vincere questa partita perché sennò stacco tutto ok raga facciamo ok raga abbiamo anche dei golden perfetto se vuole qua ma perché l'abbia così tanto questo che vuole fare ma questo è caduto boll quello è il golden vediamo un secondo ne aveva due perfetto cioè poi perché tutti devono laggare intanto ho fatto anche due kill quindi secondo me io ci arrivo a 6 kill in questa partita o a 6 o a 5 cioè se ne trovo altre allora ci arrivo a parte che quella erano super scarsi parli di trap tu parli di trap è la canzone che ha fatto un mio amico tipo a casa ok comunque raga io gioco da telefono da iphone che si gioca pure molto bene da iphone non si gioca benissimo perché laghi tanto soprattutto nel server la vita 5 golden quella vuole venire no no non ti voglio buttare giù ma non sapevo che era l'ultimo sapete perché non lo volevo buttare giù perché volevo il suo corpetto comunque raga facciamo un'altra così tanto cioè raga vi giuro non lo volevo buttare giù sapete perché non lo volevo cioè perché volevo prendere il suo colpetto vabbè raga facciamo un'altra questa qua se la perdiamo non fa niente perché se no la registrazione mi va male quindi vediamo un po' poi tipo ma si scarica pure la batteria quindi ok intanto in quella partita ho fatto 3 kg perché cioè se tipo durava di più allora non lo facevo il video dato che eeeh beh cioè meglio che non parlo se no mi deconcentro mamma mia e che sono raga avete visto vabbè io mostro pure la gamma non capisco perché il laggo cioè perché laggare io ok e boom andiamo quello vuole quello sta là che sta prendendo tutta la mia roba a me non mi va bene capito quindi mori 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 sono morto quanto cicoto quanto cicoto gigi bravissimo bravissimo questo qua vale come una kill perché lui me l'ha ucciso per me non avevo rimasto tre cuori comunque ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale ciao raga ciao 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 ciao